Cosa si aspetta da questa prima esperienza ad Avellino? Sono entusiasta, c'è una grande squadra, un ottimo staffo, un buon coach, è una bella città, i tifosi alla prima partita sono stati calorosi, devo dire che mi è piaciuto. L'abbiamo vista lavorare molto con coach Sacripanti per il miglioramento del tiro. Sono alla prima stagione da professionista e coach Sacripanti mi sta dedicando il giusto tempo. Non solo mi sta allenando per migliorare il tiro, ma anche il palleggio e la comprensione del gioco. Domenica affronterete nuovamente Milano dopo la finale di Supercoppa, come si batte Milano? È una partita diversa da quella che abbiamo giocato 15 giorni fa, innanzitutto perché credo che noi abbiamo fatto un passo in avanti. Siamo migliorati. Per vincere contro Milano e in casa loro bisognerà rispettare il piano partita e le indicazioni del coach per tutti i 40 minuti. Forse per lei è stato più facile entrare in questa realtà vista la presenza di Levi Randolph? Beh, la presenza di Levi, così come la mia, ci ha favorito e ha favorito la nostra integrazione. L'abbiamo vista palleggiare con il pallone tra i piedi. Ci sa fare anche col calcio? Beh sì, da bambino giocavo a calcio, lo ammetto. Grazie. Grazie.